Qual è il ruolo dell'Emilia-Romagna regione per il team di nutrizione? Emilia-Romagna è una regione migliore. Abbiamo un numero di università molto vecchie, al top del sistema, e sono il corso dell'international network. Prima, la ricerca. La ricerca sulle nuove tecnologie, ma anche la ricerca sulle nuove idee che la ricerca è la ricerca del sviluppo. Secondo, abbiamo un numero di compagni, grandi, multinazionali, ma anche piccoli e migliori. L'idea del sviluppo significa involvere le persone, creare nuove compagni, ma anche creare una comunità. Secondo, l'Emilia-Romagna è il luogo della società civica. La ricerca sull'emilia è una società civica. La ricerca sull'emilia è la comunità nel passato e nel futuro. Vogliamo avere un più partecipatore, una società civica. La ricerca sull'emilia è una società civica. La ricerca sull'emilia è una società civica.